Una visita importante per un paese che cerca di porre fine a un decennio di disordini e di caos politico. Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, è arrivato a Tripoli. Un viaggio che coincide anche con quello del presidente del Consiglio Italiano, Mario Draghi, previsto per questo martedì. Una sfida per l'Unione Europea e una speranza per il paese nordafricano, che è una delle rotte principali per i migranti. L'Unione Europea resta al fianco del popolo libico e del governo di intesa nazionale, che ha dato vita a un'opportunità per ricostruire il paese, ma a una condizione, ha dettato Michel. Tutti i combattenti stranieri devono lasciare la Libia. Nel processo di riconciliazione saranno cruciali il cessato del fuoco e il rispetto dell'embargo ONU sulle armi. Intanto in Libia sono arrivate le prime 100.000 dosi del vaccino russo Sputnik. Al momento non è stata ancora fissata una data per l'avvio della campagna di massa, ma per il paese si tratta della prima consegna di vaccini contro il Covid-19.